L'incidente nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre intorno alle 17.30 in Vietorino a Volpiano, coinvolto in uno scontro alquanto violento tre vetture, una Mazda 6, un Alfa Romeo 147 e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Volpiano, Chivasso e Torino Stura, due ambulanze della Croce Rossa, l'elio di soccorso del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobili di Chivasso. Due persone, rimaste incastrate, sono state estratte dalle lamiere delle vetture. Il bilancio è di tre feriti, uno è ritrasportato in codice rosso al CTO, mentre gli altri due sono stati portati al pronto soccorso in ambulanza. La dinamica è il Valle dei Carabinieri. La zona di Valle dei Carabinieri è stata di costruzione di costruzione di costruzione di costruzione di costruzione. No... Grazie a tutti. Grazie a tutti.